Nella chiesa madre di Capracotta si è svolta una solenne cerimonia per ricordare Osman Carugno, capracottese maresciallo dei carabinieri giusto tra le nazioni, unico molisano a essere riconosciuto tale dall'ente nazionale israeliano per la memoria della Shoah, per aver aiutato e salvato dalla furia nazista un gruppo di profughi ebrei tra il 1943 e il 1944. La figura dell'eroico carabiniere è stata ricordata dal sindaco di Capracotta Candido Paglione. Il maresciallo Carugno è un nostro concittadino illustre che io ho definito un gigante di altruismo, d'altra parte l'unico molisano giusto tra le nazioni, motivo di grande orgoglio per me che sono il sindaco di Capracotta ma soprattutto un esempio, un esempio per le nuove generazioni, per dire che quando ci sono dei problemi, quando ci sono dei soprusi, quando ci sono delle vessazioni, quando si mette in pericolo la vita degli altri non bisogna mai girarsi all'altra parte. Lui ha dato un esempio straordinario, per questo noi diciamo che bisogna coltivare la memoria tutti i giorni, proprio perché dobbiamo fare gli anticorpi contro il razzismo, la xenofobia e contro tutte quelle forme di totalitarismo che purtroppo esistono ancora in molte parti del mondo. Sono contento che oggi a distanza di un anno ricordiamo ancora una volta la figura di Osman Carugno. Lo facciamo non a caso nel 2023, anno nel quale ricorre l'ottantesimo anniversario della barbara fucilazione dei fratelli di Fiadino e della distruzione di Capracotta, che celebreremo in maniera ancora molto più importante e più forte nel prossimo mese di novembre. Ma oggi, voglio dire, ricordiamo bene questa figura di quest'uomo importante giusto tra le nazioni.